Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento digitale. Siamo qui oggi collegati con il Comune di Nembro. Oggi vi presenteremo un grande servizio digitale che il Comune ha deciso di attivare. Questo servizio è lo sportello telematico polifunzionale. È uno strumento che vi permetterà, quindi permetterà proprio a tutti i cittadini, di poter inviare le pratiche online. Le pratiche possono essere inviate comodamente da casa o dal proprio ufficio, sette giorni su sette, 24 ore su 24. Quindi se doveste aver bisogno di inviare una pratica anche a mezzanotte di sabato sera, state tranquilli perché lo sportello è assolutamente sempre disponibile. Allora, prima di iniziare ufficialmente a lasciare la parola al sindaco che vedete qua con me, vi do solo un'indicazione tecnica. Potete fare tutte le domande che volete nell'apposita chat che vedete sul vostro schermo. State tranquilli se non dovessimo rispondere subito perché al termine dell'evento, quindi insomma dopo che tutti i relatori avranno esposto, vi avranno spiegato come funziona lo sportello, risponderemo a tutte le domande. Quindi state tranquilli. Potete scrivere le domande quando volete, quindi appunto se in qualunque momento dell'evento dovessero pervenire delle particolari domande o dei particolari dubbi, scriveteci di tranquillamente nella chat. Perfetto, allora io adesso vi ho dato appunto delle indicazioni tecniche e per iniziare ufficialmente lascio la parola al vostro sindaco che vedete qua con me, Claudio Cancelli. A lei la parola sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Presentiamo questo sportello telematico poi funzionale che rappresenta chiaramente una volontà dell'amministrazione per essere più vicini ai cittadini rispetto alle diverse pratiche che devono essere affrontate da parte dei professionisti o dei singoli cittadini e quindi permettere anche di fare tutte le pratiche da casa o da ufficio con gli strumenti che abbiamo a disposizione, pc, tablet, smartphone, in un modo che siano in molti piattaforme. Chiaramente la digitalizzazione di cui lo sportello è uno dei componenti essenziali è un processo che era già in essere in corso nella pubblica amministrazione ma ha avuto evidentemente una fortissima accelerazione in particolare nell'anno del Covid. C'è un dato abbastanza significativo. Se pensiamo allo speed, quindi all'identità digitale che è nata nel 2016, fino all'anno scorso 2020 avevamo qualcosa come 7 milioni di cittadini italiani che si erano dotati di speed. Oggi in un anno questi 7 milioni sono diventati 21 milioni, sono triplicati, questo a significare che evidentemente l'utilizzo di questi strumenti diventa pratica corrente non solo del professionista ma anche del singolo cittadino. Il contesto è quello di una forte spinta alla digitalizzazione che nel 2020 è stata anche rappresentata dalla legge sulla semplificazione ma anche della strategia legata al PNRR che vede appunto questi strumenti come uno degli elementi cardie. Gli obiettivi che noi abbiamo, che tutti hanno, è evidentemente quella di poter fare le pratiche da casa, da ufficio, senza spostarci, 7 giorni su 7 o 24 ore su 24 come era stato detto prima. L'obiettivo è quello di uno snellimento delle procedure, di una maggiore anche rapidità e velocità da parte dell'amministrazione in termini di risposte, una certezza sull'avanzamento delle procedure e la possibilità da parte del cittadino di misurare quali sono i tempi amministrativi dei diversi procedimenti. È stato fatto un grande lavoro di rinnovamento da parte della nostra amministrazione, da parte del personale, della struttura del nostro comune perché evidentemente la trasformazione di quelle che sono procedure usuali che vengono fatte in maniera cartacea in modo tradizionale e tradurle in processi informatizzati, digitalizzati è un processo abbastanza complesso che richiede da un lato una formazione da parte dei dipendenti ma dall'altro anche proprio la capacità di strutturare tutte quelle procedure che possono essere digitalizzate. Le procedure sono davvero un numero incredibile perché non sono solo i campi tradizionali se vogliamo dell'anagrafe piuttosto che le pratiche di vizie ma coinvolgono il commercio i servizi in particolare servizi alla persona quindi la scuola, l'istruzione, la cultura e lo sport quindi l'insieme diciamo di quegli aspetti che vedono il cittadino interfacciarsi con l'amministrazione per tutte quelle che sono le esigenze che si hanno. È chiaro che è un processo in forte evoluzione abbiamo deciso di affidarci a Glovo perché evidentemente bisogna affidarsi a chi ha sul campo costruito una grande esperienza perché è facile buttare via energie e risorse per processi che diventano invece che migliori più faraginosi quindi avevamo bisogno di un partner affidabile e io credo che l'importante sia anche avere feedback da parte degli utenti affinché noi possiamo migliorare quella che è la qualità del nostro servizio e migliorare la qualità delle nostre procedure. Quindi chiediamo anche in questo senso una forte collaborazione da parte dei cittadini e dei professionisti perché dobbiamo crescere insieme in questo processo che sicuramente renderà l'amministrazione comunale capace di rispondere meglio a quelli che sono i bisogni sul territorio. Con questo io faccio gli auguri a tutti, spero che questo seminario di una spinta maggiore in termini sia di non solo informativi ma anche di motivazione da parte di tutti a dare il proprio contributo a migliorare la qualità dell'amministrazione pubblica. Grazie. Grazie Sindaco, grazie mille a lei. La ringrazio per questo suo saluto di benvenuto e mi è piaciuta molto una cosa che ha detto che è quella proprio del crescere insieme perché questo sportello comunque in generale proprio tutta questa digitalizzazione della pubblica amministrazione e soprattutto quello diciamo che ha fatto il comune di membro è proprio uno strumento che possa essere utile, che semplifichi e avvicini la pubblica amministrazione al cittadino. Quindi diciamo che c'è stato veramente veramente un grande lavoro da parte del comune per riuscire a realizzare questo sportello, a raggiungere questo traguardo ma lo vedrete dopo comunque perché Giovanni Bonatti vi farà proprio vedere i numeri di questo di questo traguardo che ha raggiunto il comune di Nembro, quindi potrete vedere tutto quello che c'è dietro. Però appunto si richiede anche una grande partecipazione ovviamente da parte dei cittadini perché vi assicuro ma dopo lo vedrete con Luigi che è il nostro tecnico che vi mostrerà come si presenta una pratica è veramente veramente molto molto semplice da utilizzare questo sportello ed è veramente una grande semplificazione. Allora io ringrazio il sindaco appunto per questo saluto di benvenuto e chiedo a Laura Dordi di accendere il microfono e webcam che è la responsabile del settore degli affari generali del comune di Nembro che ci parlerà proprio del percorso del comune verso la digitalizzazione. A lei la parola Laura. Sì, buonasera a tutti. Volevo presentare che questa scelta del comune di Nembro innanzitutto è prevista dalla normativa perché il codice dell'amministrazione digitale che ormai è in grattato nel 2005 e che poi è stato aggiornato nel corso degli anni impone proprio alle comuni di amministrazioni di rendere fruibili i servizi tramite accessi telematici, quindi tramite una rete, cioè tramite internet, poi da computer, dall'ipad, dal telefono, quelli sono solo degli strumenti. Quindi il comune, più che una scelta, è una strada che non si può non percorrere in applicazione della normativa. Dobbiamo quindi, abbiamo iniziato questo percorso per rendere accessibili i nostri servizi via web. Il comune di Nembro era già partito nel 18, quindi già da qualche anno, con lo sportello Unica Attività Produttive, rivolto soprattutto ai professionisti e imprese, perché è iniziata come spinta in quella direzione anche dalla regione Lombardia, come strumento per incentivare lo sviluppo locale, con l'attivazione di servizi digitali specificatamente pensati per queste categorie. E mano a mano questa esigenza però si deve estendere a tutti i servizi i procedimenti dell'amministrazione, perché se pensiamo, c'è la macchina amministrativa a tantissimi procedimenti, se ne potrebbero contare da 500 a 1000 procedimenti, cioè dal settore cultura scuola, al settore sociale, non so, chiedere l'iscrizione del nido, chiedere l'utilizzo di una sala, prenotare da parte di un'associazione sportiva l'utilizzo delle palestre, per arrivare poi a tutta l'area demografica, con le richieste di residenza, matrimonio, testazioni e infine appunto tutta l'area tecnica con le scia, le scie, l'aula, gli esperti del settore capiranno, comunque tutta una serie di procedimenti che vengono mappati e che noi piano piano adesso questo è un percorso che aggiusteremo in corso d'opera se ci sarà qualcosa da migliorare, da integrare, ma l'obiettivo è di rendere questi servizi, procedimenti accessibili attraverso appunto lo sportello online globo a cui ci siamo appoggiati come ditta esterna e che fornisce questo tipo di servizi. Perché? Perché non si vuole rendere la vita difficile, ma vogliamo che la macchina meditativa diventi veloce e efficiente, perché il cittadino, cittadino, imprese, professionisti, parliamo di utenti, hanno bisogno di risposte certe in tempi rapidi e soprattutto capire cosa fare per. Quindi come è strutturato lo sportello, cioè per aree tematiche, dopo ve lo spiegheranno, indirizza il cittadino a selezionare l'esigenza, in base all'esigenza che ha, a trovare le informazioni e la normativa e poi quindi mettersi in contatto con l'amministrazione attraverso il portale. Quindi si vuole semplificare, è ovvio che questo passaggio determina, dicono tanti, un cambiamento culturale, un approccio diverso che però in molti settori si è già realizzato, quindi siamo in rapporto con le banche, adesso con il sistema sanitario, il fascicolo sanitario e i comuni devono andare in questa direzione, cioè sono obbligati ad andare in questa direzione. Quindi sappiamo che ci sono dei cittadini che hanno poca dimestichezza con il digitale, ma l'amministrazione non è che poi si chiude, cioè gli uffici rimangono aperti, daremo il supporto, c'è uno sportello che dà supporto presso la biblioteca sulla digitalizzazione, perché bisogna utilizzare questo metodo, diciamo alternativo al cartaceo, alternativo al tradizionale e quindi l'intento è di favorire il cittadino. Magari all'inizio bisognerà capire come funziona, noi siamo sempre disponibili, però ecco, come diceva il sindaco, l'emergenza sanitaria ha spinto più comune accelerare in questa direzione, perché per limitare gli spostamenti, ma anche poi su un'agevolazione che uno da casa chiede quello che serve e ha le risposte, credo che sia un vantaggio e non uno svantaggio per tutti gli utenti del comune di Nembro. Ecco, direi che è più o meno concluso il mio intervento. Grazie. Perfetto, grazie mille Laura, grazie mille a lei e infatti appunto come detto, se è veramente questo sportello un insieme di procedimenti che sono tutti stati resi digitali e accessibili. Ripeto, come vedrete, è uno strumento molto semplice da utilizzare, però come ha anche appunto già anticipato Laura, state tranquilli perché il comune è sempre con voi, diciamo, nel senso che qualunque problema dovesse avere con lo supportello potete tranquillamente contare sul comune che sarà di pronto a darvi una mano. Però state tranquilli che man mano che lo utilizzerete, infatti il mio invito è proprio quello di provare in tutti i modi ad utilizzarlo, piano piano diventerà sempre più semplice e diciamo ci prenderete sempre più la mano, quindi sarà davvero una grande semplificazione. Allora io lascio adesso la parola a Giovanni Bonati che è appunto il manager del gruppo Maggioli e ci farà vedere proprio tutti gli strumenti necessari per poter utilizzare lo sportello digitale. Lasciate la parola Giovanni. Non ci sentiamo Giovanni, devi accendere l'audio. Grazie Anna, grazie anche a tutti i cittadini che vedo che stanno aumentando, che hanno scelto di trascorrere questa ora insieme a noi. Il mio compito è introdurre quello che poi lui ci farà vedere e in particolar modo come diceva il sindaco, diceva la dottoressa Borghi che mi ha preceduto, farvi vedere ancora una volta come questo progetto si inquadra in una serie di misure nazionali e anche europee. Innanzitutto si sente spesso la parola piano di resilienza e di ripresa nazionale, questo progetto si inquadra proprio in questo piano che cita la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e la pubblica amministrazione come elemento portante per la ripresa anche economica del paese. In particolar modo una norma appena uscita, qualche settimana fa era fine febbraio, che proprio cita come le pubbliche amministrazioni devono attuare una cittadinanza digitale consentendo a tutti i cittadini di presentare online qualunque tipologia di pratica utilizzando canali telematici, quello appunto internet e in generale la rete, con la possibilità di accedere attraverso tre sistemi principali, una carta di teletronica, una carta nazionale dei servizi oppure il sistema pubblico di identità digitale. Altra cosa molto importante, anche il Comune di Nembro, poi lo vedremo in alcuni indicatori, sta facendo la scuola, anche la possibilità di pagare online con carta di credito. Infine la certezza per il cittadino di conoscere sempre i tempi entro i quali la pubblica amministrazione si impegna a rispondere su un determinato procedimento. Questi sono tutti i fattori ed elementi che Luigi poi ci farà toccare con mano. Ho citato Speed, poi so che su questo Anna fa sempre un sondaggio divertente per vedere quanto anche gli abitanti di Nembro sono digitalizzati. Chi di voi non ancora Speed, che ricordiamo è una username, una password, che permette di accedere a qualunque sito internet della pubblica amministrazione, tra cui appunto anche con le Nembro, con valore legale. Quindi quando io accedo con Speed e presento una pratica, quella pratica ha valore legale, proprio come se la sottoscrivessi con la mia penna. Speed perché non ce l'hai gratuito? Si può andare in posta al bancone oppure da casa a 5 minuti www.speed.gov.it ed è facilissimo richiederlo e averlo. Una volta richiesto è gratuito e soprattutto è per sempre. Speed si sta diffondendo tantissimo. La settimana scorsa abbiamo superato i 20 milioni di cittadini che hanno Speed, quindi ormai ci attestiamo a un'utenza Speed per famiglia, quindi una cosa molto importante. Il progetto che vediamo oggi è un progetto importantissimo. Oggi noi stiamo vedendo una punta del progetto, lo sportello telematico polifunzionale, ma è bene anche comunicare che la pubblica amministrazione in questi mesi non è che ha semplicemente avviato uno sportello telematico, ma ha ripensato i propri processi, ha rivisto i propri processi, ha rivisto, semplificato, standardizzato la modulistica. Modulistica che come ci farà vedere Luigi non sarà più una modulistica cartacea, ma solo dei moduli che noi chiamiamo intelligenti perché guidano il cittadino e controllano, verificano e proprio supportano ognuno di noi affinché la pratica sia compilata in modo facile e soprattutto assistito. Come vi dicevo oggi vediamo la punta di un iceberg, ma i numeri dimostrano il fatto che il lavoro che è stato portato avanti in questi mesi è importantissimo. 720 procedimenti digitali, 720 pratiche, tipi di pratiche che da questa sera possono essere trasmesse da casa. 627 moduli che prima erano cartacei, oggi sono moduli intelligenti, quindi compilabili in modo guidato. 18 dipendenti che in questi mesi hanno camminato insieme a noi, ci hanno aiutato e ci hanno accompagnato in questo grandissimo progetto di digitalizzazione e poi molto interessante perché nonostante sia online da pochissimo, Pago.pa, quindi la possibilità di pagare online anche con carta di credito, già iniziano ad essere delle somme importanti e quindi hanno anche evitato che qualcuno andasse in posta, andasse in tabaccheria, andasse in banca, ma abbiamo già 10 mila euro che sono stati pagati proprio online e quindi questi numeri dimostrano anche dell'importanza del progetto. Quindi buona visione a tutti, passo la parola a Anna e grazie anche a tutti i cittadini che trascorreranno ancora una mezz'oretta con noi. A te Anna. Grazie mille Giovanni, infatti ecco come avete appena visto, come vedete da questa slide, i numeri sono veramente veramente grandi, quindi potete anche voi diciamo con i vostri occhi capire e vedere proprio tutto il lavoro che è stato fatto dal comune. Quindi vediamo subito appunto il risultato di questo lavoro. Adesso appunto Luigi si metterà nei panni di un qualunque cittadino e vi farà vedere come si presenta una pratica online. Lasciate la parola a Luigi. Eccoci qua, buonasera a tutti, come mi ha giustamente presentato Anna, sono il collega che ha seguito in questo percorso di digitalizzazione il comune di Nembro, ricordiamolo, il comune di Nembro ha portato avanti questo progetto in un periodo molto delicato sicuramente per offrire un servizio che seppure a distanza restituirà, darà grandissima efficienza al comune. Infatti tutti gli incontri sono stati realizzati nel clou della pandemia, sono stati realizzati a distanza e siamo riusciti comunque a completare questo progetto di successo che permetterà ora a tutti i cittadini di Nembro di presentare le istanze da casa. Ma vediamo appunto come si fa. Come ha accennato prima Laura, lo sportello telematico che inauguriamo oggi innanzitutto è un'estensione di servizi che il comune ha cominciato a derogare già anni fa con il suo a per sue e ha deciso di estendere tutti i servizi compilabili, presentabili in modalità digitale per tutta la cittadinanza. Vediamo come si consulta questo sportello telematico. Innanzitutto è un sito internet quindi è raggiungibile un indirizzo sportellotelematico.nembro.net ma anche dal sito istituzionale dell'ente si può facilmente raggiungere. Infatti l'ente ha messo un banner che permette di accedere al servizio. Il cittadino che accede a questa piattaforma che è assolutamente molto intuitiva ha la possibilità di ricercare il procedimento di suo interesse in due modi o attraverso il motore di ricerca come ormai siamo abituati nei più comuni siti, ad esempio digitando una parola chiave come la voce residenza, vedete accedendo subito al contenuto che ci serve, oppure navigando nella home page del portale attraverso questa pulsantiera. Questa pulsantiera che vedete racchiude, suddivide tutti i procedimenti dell'ente per area tematica. Infatti il punto di vista di noi cittadini che non sempre conosciamo le competenze dei singoli uffici, la struttura dell'ente, abbiamo bisogno di accedere a dei procedimenti senza conoscere gli uffici e informazioni di dettaglio dell'ente ma abbiamo bisogno di orientarci per area tematica. Ragione per cui ad esempio sotto il tasto servizi demografici potremmo trovare tutti i procedimenti che riguardano l'anagrafe, l'elettorale, lo stato civile, proprio tutti assieme. O ad esempio sotto il tasto tributi potremmo incontrare tutti quelli che sono i procedimenti relativi al mondo dei tributi, della ragioneria, insomma permettono al cittadino di consultare questo sportello telematico in maniera veramente molto semplice ed intuitiva. Accedendo ad esempio sotto il tasto tempo libero sport e cultura vediamo che è un ambito, andiamo a trovare l'accesso ad alcuni dei procedimenti che sono stati realizzati. Ad esempio se io fossi il legale rappresentante o comunque un membro di un'associazione, di un gruppo che ha bisogno di chiedere un patrocinio al comune avrei potuto o ricercare da parola patrocinio da motore di ricerca oppure nell'ambito, nell'area tematica tempo libero sport e cultura trovare l'accesso al contenuto. Il bello di questa piattaforma è che omogeneizza tutti i contenuti di tutti gli uffici dell'ente. Da oggi tutti gli uffici del comune di Nembro parleranno la stessa lingua, non ci sarà una modalità di accesso a servizi telematici per un ufficio e un'altra modalità per un altro, ma tutti sono accessibili da questa piattaforma allo stesso modo. Quindi come sono fatti questi procedimenti? Si accedono dalle aree tematiche e rispondono alla domanda del cittadino che deve fare cose, che deve soddisfare i bisogni, in questo caso che deve chiedere la concessione del patrocinio. Ogni contenuto è realizzato in maniera molto chiara, sburocratizzando il linguaggio e descrive per ogni procedimento che cos'è e cosa dovrà fare il cittadino per completare la sua istanza. Quindi in questo caso il patrocinio il cittadino può consultare che cos'è il procedimento, può ad esempio consultare le norme di riferimento legate al procedimento, magari anche i regolamenti comunali o delibere di giunta di consiglio comunale dell'amministrazione, se poi vorrà completare il procedimento in modalità completamente telematica potrà accedere al servizio che gli interessa, quindi accedere alla procedura. In questa fase il cittadino vedrà quale sarà l'ufficio competente, quali saranno i tempi della sua richiesta, come dicevamo prima, in totale trasparenza e gli eventuali pagamenti necessari per assolvere la domanda. Come diceva Giovanni, il Comune di Nembro ha aggiunto un altro pezzettino alla trasformazione digitale, infatti oltre alla presentazione telematica dell'istanza, quindi alla sola presentazione, ha aggiunto anche la possibilità di effettuare pagamenti in modalità digitale. Leggevo questa mattina una statistica del portale, magari è già aumentata, sono già quasi 10.000 euro i valori delle transazioni pago PA che sono passate attraverso lo sportello telematico, quindi anche quello è un grandissimo elemento. Il cittadino quindi che arriva alla procedura ha la possibilità di consultare tutti i dati della pratica e di arrivare fino al modello, fino ai documenti che è necessario presentare a corredo del procedimento per presentare la pratica. Ha la possibilità di scaricare il pdf e di vedere in ogni caso come sarà composto, come dovrà comporre il modulo di richiesta. Quindi è un punto, diciamo, è una modalità di accesso comunque alla modulistica, anche quella che potrebbe essere utilizzata in forma cartacea, seppure il vero salto di qualità l'ente lo fa consentendo al cittadino di presentare la pratica in modalità telematica, quindi completando l'iter in modalità sempre all'interno dello sportello telematico, dall'inizio alla fine. Abbiamo visto che il cittadino, diciamo in maniera anonima, il cittadino senza registrazione può comunque consultare tutti i contenuti dello sportello telematico e abbiamo visto che questi sono tutti disposti allo stesso modo. Se io adesso accedessi al tasto dei tributi troverei la lista dei procedimenti e così via in tutti gli altri ambiti, sono tutti consultabili allo stesso modo. Se apro l'imposta municipale propria IMU che tutti conosciamo, troviamo anche qui una descrizione del procedimento e l'accesso alla modulistica. Veramente tutti i procedimenti sono accessibili allo stesso modo. Per tutti questi procedimenti garantiamo la stessa modalità di accesso, quindi la stessa possibilità di presentare le pratiche digitalmente. Come si fa ad autenticarsi al portale? In alto a destra, vedete, resta sempre disponibile un tasto di accedi, il cittadino consulterà questo pulsante e sceglierà l'identità digitale in suo possesso. Avrà la possibilità, ad esempio, da più diffusa, di autenticarsi con Speed. Potrà quindi cliccare sulla voce Entra con Speed, scegliere l'identity provider di cui dispone dell'identità digitale, ad esempio io utilizzo l'identità digitale di Sielte, inserire la propria credenziale di username e password, che questa diciamo resta costante nel tempo e poi avrà un codice OTP o una notifica temporanea a seconda della tipologia di identity provider che mi permetterà di rendere valido l'accesso solo per questa volta. Quindi vado dal mio telefono a aprire l'app del mio fornitore di Speed, inserisco in questo caso il codice OTP che è valevole solo per questo accesso e proseguo con l'autenticazione. Una volta che ho effettuato l'accesso nello sportello telematico, quindi autorizzo l'accesso, eccoci qua, innanzitutto non sono più un utente anonimo dello sportello telematico, ma mi sono fatto riconoscere. Vedete che lo sportello telematico mi dà un messaggio di benvenuto, mi dice collegamento completato con successo, benvenuto Luigi Marzano, ho la possibilità di accedere alla mia scrivania del cittadino dove posso andare a consultare lo storico delle mie pratiche, ad esempio, e tutte e moltissime altre informazioni legate al mio profilo, ma soprattutto ora ho la possibilità di presentare gli stanze in modalità telematica dall'inizio alla fine. Ad esempio posso ricercare un modulo che mi permetta di chiedere la concessione di uno spazio comunale, ad esempio se la mia associazione volesse richiedere uno spazio in concessione per attività culturali, quello che è cambiato rispetto prima che se una volta avrei potuto richiedere solamente il pdf della domanda, ora posso accedere alla presentazione telematica dell'istanza. Accedendo alla presentazione telematica dell'istanza mi ritrovo di fronte a quello che è un modello graficamente analogo a quello che avrei compilato in forma cartacea, ma che al suo interno ha diversi supporti alla compilazione, è una procedura guidata, ad esempio posso precaricare i miei dati anagrafici dalla mia identità digitale, posso farmi aiutare dai menu a tendina per completare l'istanza, posso, vedete ad esempio per l'indirizzo utilizzare uno stradario comunale per poter inserire i dati, ad esempio per la scelta dello spazio ritrovare esattamente la denominazione di tutti gli spazi presenti in comune, quindi senza lasciare all'ente la possibilità di imputare i dati da tastiere, magari di sbagliare e così via, quindi andare a definire e andare a scegliere tutte quelle che sono le mie attività. Ho diversi controlli, diversi controlli che aiutano il cittadino a completare la pratica correttamente, ma che hanno come risvolto quello di aiutare anche il comune che a questo punto riceverà delle istanze assolutamente complete di noi di sua parte, vedete manifestazione culturale e così via, posso continuare a inserire i miei dati semplicemente da tastiera, in qualsiasi momento posso consultare sulla destra quali sono i miei dati mancanti, ok, e andare avanti man mano nel farmi guidare in questa compilazione. C'è anche un importantissimo supporto nel calcolo degli eventuali allegati, a seconda se ad esempio avessi scelto l'auditorium modernissimo, che immagino conoscete tutti, sarebbe stata richiesta una specifica compilazione ulteriore con quello che mi serve impiegare ad esempio nell'auditorium modernissimo, quindi vado a specificare la data nel quale organizzerò la mia manifestazione con l'orario, vedete che tutte quelle che saranno le informazioni strettamente necessarie verranno richieste al cittadino in modo che l'istanza risulti completa in ogni sua parte. Ovviamente non è detto che il cittadino completi l'istanza in una volta sola, vedete potrei lasciare anche dei passaggi mancanti e il cittadino potrebbe comunque salvare la pratica, salvarne la bozza e riprendere la compilazione della sua istanza in qualsiasi altro momento dalla propria scrivania. A dire il vero in questa fase il cittadino potrebbe addirittura avviare completamente una nuova compilazione, un nuovo procedimento. Per poter recuperare la sua istanza invece accederà nella sua scrivania personale e accederà all'area pratiche dove avrà oltre la possibilità di consultare lo stato delle sue istanze, lo stato d'avanzamento, potrà anche vedere la storico delle sue trasmissioni al comune e quindi poter accedere alla compilazione che ha lasciato in sospeso e completarla in una fase successiva. Riaccedendo al modulo mi posso far guidare dalla tendina di supporto ai dati mancanti, cliccando sulla voce mancante mi faccio guidare nell'inserimento di questo dato, posso salvare la mia compilazione e se l'avanzamento dell'istanza, quindi tutti i passaggi mancanti, sono stati conclusi mi dice l'istanza è pronta per essere inviata. Ora non la trasmetterò perché arriverebbe davvero già al protocollo informatico dell'ente perché lo sportello telematico già attivo, già funzionante, nel momento in cui faccio invia all'istanza partirà una pratica che arriverà direttamente al protocollo informatico dell'ente che poi si occuperà della sua gestione con i relativi applicativi di back office perché ricordiamoci a questo punto se l'ingresso avverrà in digitale anche all'interno del comune verrà dematerializzato tutto l'iter. Avete già visto che sono già entrate numerosissime pratiche nello sportello telematico, siamo già a più di 3.000 istanze e come vi dicevo prevede sia la compilazione delle istanze in ogni suo ambito ma anche la possibilità di completare laddove è necessario anche dei pagamenti all'interno dell'istanza. Quindi lo sportello telematico è stato integrato con il portale dei servizi pago.pa, ormai anche questo è un vocabolo che è diventato comune nel lessico della digitalizzazione della pubblica amministrazione e il comune di Nembro ha messo a disposizione anche questo strumento per permettere al cittadino di completare un procedimento, un iter, un intero iter completamente da casa. Quindi utilizzando le proprie credenziali di identità digitale, speed, carta nazionale dei servizi e prossimamente la carta identità elettronica, il cittadino accederà allo sportello telematico, presenterà l'istanza, se ha bisogno di pagamenti li potrà effettuare attraverso il circuito pago.pa, l'intera pratica arriverà al protocollo informatico dell'ente carica di tutte le informazioni e priva di errori perché lo sportello telematico aiuta il cittadino nella compilazione offrendo un servizio interamente digitale all'amministrazione. Un'altra sezione molto importante che utilizzerete le prime volte che accederete allo sportello telematico è quella delle domande frequenti, infatti se non vi doveste ricordare qualcosina di quella che è stata la mia presentazione su come si presenta un'istanza, in questa sezione di domande frequenti troverete numerosissimi dubbi rispetto all'uso dello sportello telematico o a specifici contenuti che vi aiuteranno a completare la pratica. Quindi diciamo non vi posso che augurare buon lavoro, un buon divertimento anche con la presentazione di pratica attraverso lo sportello telematico ricordandovi come diceva Laura che il comune è sempre presente e che anche lo sportello telematico attraverso questa sezione vi può guidare a completare un vostro procedimento in modalità completamente digitale. Grazie mille Luigi. Allora intanto che Luigi guarda eventuali domande io chiedo a tutti gli altri relatori di accendere il microfono e webcam e come aveva già anticipato Giovanni vi mando un sondaggio sullo speed per vedere quanti di voi hanno già speed. Vi ricordo che se ancora non avete attivato speed è completamente gratuito attivarlo basta si può richiedere in uno degli identity provider che appunto avete visto anche vi ha fatto vedere anche Luigi sullo sportello telematico quindi appunto state tranquilli perché è una cosa veramente veramente facile e veloce e soprattutto è uno strumento essenziale in generale diciamo al giorno d'oggi ma soprattutto per poter utilizzare lo sportello telematico. Comunque ecco vedo che il 95 per cento di voi ha risposto sì quindi già avete speed quindi devo dire che i cittadini di Nembro sono già molto digitali perché 92 per cento è una percentuale veramente alta quindi complimenti. Allora io credo a Luigi si ha letto le domande che sono arrivate. C'era una domanda legata al mondo di pago PA ok magari non rientro nel descrivere lo specifico caso che ha riscontrato l'utente ma faccio una una piccola precisazione e questo se vogliamo da valore all'ente è quello che è attivato il comune di Nembro rispetto ai pagamenti digitali è una modalità che va oltre al normale versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria che poteva essere fatto attraverso altri canali penso a un bonifico online o altri servizi. Il comune di Nembro ha aderito al nodo dei pagamenti in una modalità che permette all'ente nel back office di eliminare qualsiasi lavoro aggiuntivo di riconciliazione manuale cioè di associazione dei pagamenti alla pratica. Questo perché il nodo dei pagamenti consente in questo modo di agevolare moltissimo la ragioneria dell'ente rendendo automatici questi passaggi tuttavia questo ha dei vincoli dei limiti tecnici che dover associare spesso dei pagamenti che spesso il fatto di dover associare dei pagamenti all'istanza potrebbe creare in alcuni casi delle interruzioni di servizio dei problemi che poi ci potrebbero creare il distaccamento del pagamento dalla pratica e a volte come era che è accaduto al cittadino che ha inserito questa domanda di riscontrare degli errori. Siamo coscienti che delle volte può capitare questo infatti abbiamo in programma visto che questa operazione può avvenire assistenza anche da parte del comune direttamente quindi non solo da noi abbiamo in programma proprio di erogare della formazione su questo specifico tema agli uffici interessati nella gestione dei pagamenti con Pago.pia in modo che vi possano aiutare direttamente nel caso di anomalie con i pagamenti associate alle pratiche. Però diciamo che è un piccolo posto che permette poi all'ente di fare una gestione veramente efficiente dei pagamenti legati alla pratica. Esatto questo anche perché comunque lo sportello è in continua evoluzione quindi cerchiamo diciamo di migliorarci tutti i giorni quindi se avete dei commenti insomma qualunque cosa avete potete tranquillamente farla sapere al comune che riferirà direttamente a noi e cercheremo appunto ovviamente di migliorare lo sportello il più possibile. Allora intanto che aspettiamo in caso doveste avere altre domande quindi chiedetecele adesso. Intanto io vi lancio un altro sondaggio per vedere per quanti di voi questo evento è stato utile quindi se l'avete trovato utile ma soprattutto vi ha fatto capire cos'è lo sportello e come funziona lo sportello telematico quindi come funziona l'invio delle pratiche. Vi ricordo inoltre che questo evento è questo evento è registrato quindi appunto potrete appunto poi noi domani metteremo la registrazione sul nostro canale di youtube e potrete andare a rivederlo sul nostro canale di gruppo maggior di globo. Questo appunto perché in caso non so dovesse avere qualche dubbio o in caso dovesse esserci qualcosa oggi che non avete capito o preferite andare a rivedere potete tranquillamente rivedere tutto l'evento. Intanto Luigi è arrivato un'altra domanda. Ci chiedono se lo sportello suo rimane invariato vuoi rispondere tu? Sì allora lo sportello suo rimane invariato e in realtà lo abbiamo nell'attività di attivazione di questo sportello polifunzionale che racchiude più ambiti abbiamo fatto per alcuni giorni dei lavori di aggiornamento che ha portato lo sportello suo in questa nuova versione della piattaforma che però dal punto di vista grafico a questi grandissimi miglioramenti in temi di usabilità accessibilità perché questa piattaforma è conforme alle più recenti linee guida di design dei siti web per la pia però diciamo che dal punto di vista del professionista della modalità di impiego del anche proprio di concretamente dei passaggi che i professionisti devono fare per la presentazione delle istanze è rimasto assolutamente invariato quindi è cambiata la grafica perché deve rispondere queste nuove linee guida ma l'uso resta invariato diciamo perfetto grazie mille luigi chiedo intanto anche a laurea se vuole accendere il microfono e webcam per diciamo concludere visto che direi che siamo arrivati quasi alla conclusione di questo evento se vuole fare diciamo dei saluti insomma vuole dire qualcosa in conclusione no va bene dire il comune c'è tutti gli uffici e tutti i dipendenti che ringrazio si sono sforzati comunque perché c'è il lavoro di mettere online che procedimenti parte dagli uffici quindi abbiamo dovuto analizzare procedimenti dare le caratteristiche affinché poi globo potesse personalizzare quello che poi viene pubblicato come sportello adattandolo all'esigenza del comune ovviamente ci sono dei procedimenti che sono simili per tutti gli enti stessa normativa stessa modulistica ed è importante trovare questa uniformità perché non credo che sia giusto che in base al comune a cui mi rivolgo c'è una procedura rispetto a un'altra cerchiamo di uniformare e davvero l'intento è quello di favorire il cittadino aiutarlo a rapportarsi con il comune in un modo semplice veloce e direi che è una questione di abitudine però ecco come diceva globo probabilmente c'è ancora qualcosa da perfezionare da sistemare è stato un lavoro difficile soprattutto perché fatto a distanza in un periodo già complicato come come adempimenti come come situazioni ci siamo comunque sforzati per per poterlo rendere in linea nel corso di quest'anno in tempi brevi e l'impegno comunque non è che si chiude qua lo sportello in continua evoluzione ci lavoreremo lo perfezioneremo e cercheremo di andare incontro a tutte le esigenze ovviamente non è che il comune da domani rifiuta il cartaceo prima o poi arriverà quel giorno perché l'indirizzo è quello ma se si arriverà quel giorno è perché il cittadino sarà pronto gli utenti saranno pronti e tutto il sistema procedimentale funzionerà nel modo corretto ecco questo è il nostro augurio a tutti coloro che si dovranno rapportare con il comune grazie assolutamente infatti l'augurio è proprio quello di utilizzare più possibile questo strumento perché vi semplifica veramente veramente tanto la vita e soprattutto vi avvicina al comune quindi vi consigliamo di anzi di iniziare se già se ancora non l'avete utilizzato di iniziare ad utilizzarlo già da ora comunque insomma già andare a vedere sbirciare insomma un po come funziona così che poi insomma una volta inviata la prima pratica come vi ho fatto vedere prima luigi poi sono tutte uguali quindi se imparate ad inviare una pratica poi potete stare tranquilli che è tutto uguale allora io direi che siamo arrivati alla conclusione di questo evento quindi io vi saluto vi ricordo che l'evento è stato registrato e lo metteremo domani noi sui nostri sui nostri canali sul canale youtube e appunto potrete rivederlo quando volete quindi vi auguro un buon utilizzo dello sportello telematico e vi auguro una buona serata ciao a tutti grazie a tutti buonasera ciao a tutti ciao a tutti buon lavoro con lo sportello telematico